Ha estratto una siringa che aveva nascosto nelle pieghe dei vestiti, minacciando gli agenti che lo avevano portato in questura a Vicenza per identificarlo durante un controllo in cui era risultato privo di documenti. Sono riusciti a bloccare l'italiano 56enne grazie all'utilizzo del taser e arrestarlo. Dovrà rispondere dei reati di minacce e resistenza pubblico ufficiale. L'uomo era stato accompagnato negli uffici della questura poiché poco prima in via Gorizia, durante il passaggio della pattuglia, senza alcun motivo, si era rivolto agli agenti con frasi offensive. Alla richiesta di esibire i documenti di identità aveva rifiutato di collaborare, continuando a insultarli. È stato quindi fatto salire a bordo della volante e accompagnato in questura per l'identificazione.